Dopo diversi contenuti che comunque seguivano una matrice lavorativa, oggi facciamo un contenuto di cuore, sia dal punto di vista personale, nel senso che il brano, diciamo, rientra in un'ottica proprio emotiva dell'ascoltatore, sia per la tematica che comunque tratta appunto tematiche, non dico sentimentali, però perlomeno che riguardano la sfera appunto amorosa, diciamo. E questo va un po' in controsenso al viaggio che mi sono fatto sul discorso di questo brano, sul mio trip. Però adesso ci arriviamo, prima contestualizziamo. Parliamo di uno di quei brani che io amo definire dell'epoca Emule, ovvero che su Emule tu scrivevi rap italiano e ti apparivano, diciamo, un tot di canzoni che poi erano anche magari su YouTube e facevano un sacco di visite perché erano quelle, diciamo, famose e popolari, quelle che potevi reperire. C'erano anche il Yuga Flame, ad esempio, gruppo che poi fondamentalmente è scomparso, anche se uno dei suoi membri continua a fare musica e certe canzoni come Troppo Complicato ancora qualcuno le ascolta ben volentieri. C'era 21 grammi, i duplici, vabbè, insomma, sto parlando di gruppi storici, i Freestyle, Fibra Contro Chiffa e via dicendo. E tra questi brani c'era, appunto, Ho bisogno d'amore, numeri due, Fet Bassi Maestro. Mi voglio concentrare su Bassi perché i numeri due sono un gruppo, diciamo, R&B, se vogliamo, se si poteva definire così. Diciamo, hip-hop, però molto più melodici. E io invece mi soffermo su Bassi Maestro, anche se la canzone, diciamo, loro, perché è la strofa di Bassi Maestro, quella che negli anni mi è rimasta più addosso, più dentro. E ogni volta che ho bisogno d'amore, come da canzone, ascolto questa strofa per riflettere, rifocillarmi, diciamo, perché questa strofa tratta questa tematica in controsenso sul tema, diciamo, appunto, sentimentale perché lo fa senza poetica, senza troppo sentimento. Questa strofa è una saggistica, è un discorso razionale, ma reale, ed è molto rispettoso ed elegante. Tratta il tema davvero con i guanti. E mi piace veramente da matti, credo che sia una delle strofe più belle del rap italiano, perlomeno una delle più importanti, assolutamente. Quanti ragazzi scrivevano pezzi e lo facevano ispirandosi a foto di gruppo, cose preziose. Ho bisogno d'amore, appunto. La strofa di Bassi dice Dai, colpiscimi più in fretta. Dammi solo un'altra zolletta, questa zolla di terra è sempre più fredda. Ci fingiamo brillanti come Fonsi, ma siamo dei poveri stronzi come Fantozzi. Quest'ultima massima ripresa nei vari stati Facebook, i post, quest'ultima massima è proprio l'emblema, diciamo, dell'uomo che diventa miserabile in fase d'amore. Di questi tempi, stringere una mano qui a Milano è come quando sono ammessa, un gesto profano, perché in fondo non ci credo e quando mi presento mi proteggo dietro a un vetro. Ecco, anche qui, vedete che non c'è bisogno di fare casino per una provocazione, quando questa non è sterile, è molto elegante come provocazione, non è un attacco alla Chiesa o al clero e basta, è un'opinione. Io in fondo non ci credo e quando mi presento mi proteggo, cioè il Bassi davanti al fattore spirituale in cui non crede si protegge da dietro un vetro, quando deve entrare in Chiesa magari per una celebrazione o chissà per quale motivo, magari per un momento personale, però si protegge dietro un vetro. Non è un attacco stupido, è un'opinione elegante ed educata e questo a me mi fa impazzire in questo stile di scrittura. Siamo tutti uguali, concludiamo affari, protestiamo nelle strade perché siamo pari. Vuoi la verità, ragazzo? Di questo mondo pazzo a noi non ce ne frega un cazzo. La guerra, la fame, cazzate, facci preoccupate se va male con le nostre fidanzate. Ci sfugge qualcosa, ci manca l'essenza, datemi l'amore, altrimenti vivo senza. Questa è una conclusione bellissima, breve strofa fondamentalmente però che razionalizza la verità perché è molto avanti, poi la psicologia ci ha insegnato che tutto ciò che noi sentiamo di non giusto per cui ci battiamo, non so se vi è mai capitato, io mi sono anche battuto molto a livello sociale, ma fondamentalmente nasce tutto da un bisogno nostro interiore e se risolvi quello non senti più, diciamo, il bisogno di batterti. Certo che ti rode il culo davanti all'ingiustizia, ma non fai, diciamo, quel casino inutile laddove non si può cambiare. Diventi più concreto, riesci a ottimizzare i tuoi valori piuttosto che buttarli all'aria. E qui il Bassi ti offre una prospettiva cinica, spietata. La guerra, la fame, cazzate. Siamo preoccupati solo se va male con le nostre fidanzate. Cioè, e poi, vabbè, la poesia finale. Cioè, questo è un pezzo senza troppa poesia, senza poetica, ma che ti lascia appunto un finale che è poesia. Ci sfugge qualcosa, ci manca l'essenza. Datemi l'amore, altrimenti vivo senza. Costretto. Davanti al bisogno d'amore. Si inizia col bisogno d'amore e poi c'è la conclusione. Costretto a vivere senza amore. Perché si può, si può vivere senza amore. Come era? Non puoi vivere senza il tuo cuore. E no, Bassi ti dice che non è così. Puoi vivere a un prezzo questa vita. Così come ha un prezzo la vita con l'amore. E qui non è che si parla neanche di una scelta. Si parla di quando comunque la vita ti porta davanti a una verità che devi accettare. E quindi conseguenza, risultato, significato, un'unica condizione accettabile. Quando ci si innamora e non è possibile vivere l'amore. Quindi nasce il bisogno, ovvero l'accettazione nel bene e nel male. E poi ci sono loro. Ho bisogno d'amore, ti prego dammene che ancora ce n'è. In questo mondo vedo troppi perché. Spettacolo. Torno indietro negli anni. Questa mi ricorda proprio una mia prima cotta. 12-13 anni. C'era questa ragazza che mi piaceva. Mi ricordo che eravamo a una festa. E ci tenemmo per mano. Due minuti. Io tutto rosso. uscì con un peperone, con questa bicicletta e misi questo brano. Parlo veramente di 14-15 anni fa. Che spettacolo. Che ricordo meraviglioso. Però a parte questo, il bisogno d'amore oggi è vivo più che mai. In quest'epoca di detenzione domiciliare un po' per tutti. È difficile compensare. È difficile. Prima prendi, va, andiamo in discoteca, balliamo, facciamo casino. Il dolore c'è ma non lo voglio sentire. Oggi invece siamo costretti a sentire ogni cosa. E quindi questa canzone resta ancora più attuale. E desideravo parlarne appunto per questo motivo. E insomma vi voglio anche invitare a riascoltare un attimo la discografia di questo Bassi. Che un po' di roba buona l'ha fatta. Forse qualcosa in più. Forse qualcosina che possiamo parlare e chiamare storia del rap italiano. Mi sa che dobbiamo un attimo ritornare a scuola dal maestro.